I mercati americani sono in attesa del pronunciamento della Fed che avverrà mercoledì 15 dicembre in merito ai tassi di interesse. Come spiego in questo mio video del secondo canale YouTube, vi metto il link in descrizione, ci sono delle aspettative. Se queste aspettative verranno rispettate, il 15 sui mercati potrebbe capitare poco e niente, un po' come accade quando fu annunciato il dato record dell'inflazione al 6,8%, se lo aspettavano i mercati e infatti non hanno reagito un gran che. Ma nel caso in cui invece il dato, la scelta della Fed fosse diversa e quindi disattendesse le aspettative dei mercati, in quel caso ci potrebbe essere forte volatilità sui mercati finanziari americani, ma non solo, anche sui mercati finanziari mondiali e in particolare su quelli cripto che sono solitamente più volatili degli altri. Io però voglio mostrarvi anche questo grafico che confronta i trend di fine anno di quest'anno in arancione con quello dell'anno scorso in verde, quello del 2017 in giallo e quello del 2013 in grigio. Come vedete quello del 2013 e quello del 2017 sono completamente diversi. Quello del 2020 per certi versi è simile a quello di quest'anno. In particolare da notare che in questo lungo periodo di lateralizzazione nel 2020 il punto più basso fu toccato l'11 di dicembre, in questo periodo di lateralizzazione di quest'anno il punto più basso è stato toccato il 4 dicembre, ma l'11 di dicembre è stato toccato un punto simile. Tenete presente che io questi grafici li faccio prendendo come riferimento i prezzi medi giornalieri, non i massimi e i minimi. Ebbene, l'anno scorso, proprio a partire dal 13 dicembre, ci fu una reazione, un inizio di salita che poi proseguì forte tra il 16 e il 18 di dicembre. Quindi possiamo ipotizzare che questi giorni, questa settimana, in teoria si presterebbe ad una certa volatilità sui mercati cripto, in particolare sul prezzo di bitcoin, dopo praticamente un mese quasi di lateralizzazione. Cioè dopo questa parabola, questo è il grafico del prezzo di bitcoin dell'ultimo mese, gli ultimi 30 giorni, dopo questa parabola ci potrebbe anche stare un eventuale rialzo come l'anno scorso. Però molto dipende da quello che accadrà il 15 dicembre sui mercati finanziari. E attenzione, quando si parla di volatilità non si parla necessariamente di aumento dei prezzi, perché la volatilità può portare il prezzo in alto, ma anche in basso. E se prendiamo come riferimento gli ultimi tre mesi del prezzo di bitcoin, beh, che ci sia in atto una fase calante, è piuttosto evidente, anche se dal circa 4 dicembre sta proprio lateralizzando. Quindi oggi, domani e dopodomani potrebbero essere dei giorni durante i quali questa fase di lateralizzazione potrebbe interrompersi. Può anche darsi che i mercati americani stiano aspettando mercoledì, aspettando la Fed per capire come reagire. Quindi può anche darsi che il giorno in cui potrebbe muoversi il prezzo di bitcoin sia il 15 dicembre o il giorno successivo. E comunque, come dico nel mio altro video, non è detto che i mercati reagiscano il 15 dicembre, perché se la Fed annunciasse una decisione che è in linea con le aspettative, i mercati potrebbero anche non reagire. Quindi siamo in una fase di incertezza in cui bisogna solamente attendere qualche tipo di reazione senza sapere nemmeno quale sarà la direzione. Io ovviamente vi terrò aggiornati se dovessero esserci delle novità e colgo l'occasione per suggerirvi di iscrivervi anche al mio secondo canale YouTube, vi metto il link in descrizione, in cui parlo di notizie di economia e finanza, ma che non hanno a che fare con le criptovalute. Un saluto, ciao!